Bentornati in studio e torniamo a parlare di argomenti che riguardano la sostenibilità, lo abbiamo fatto diverse volte in queste ultime puntate, in queste ultime settimane e torneremo sicuramente a farlo anche in futuro. Venerdì 25 febbraio è terminata la rassegna Open 2022, una rassegna organizzata già da qualche anno dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e quest'anno, già da qualche anno a dir la verità, anima proprio di questa rassegna è la Vice Presidente qui in studio con noi, Valeria Reale Ruffino. Benvenuta ingegnere. Buonasera Matteo, ben trovato, grazie per l'invito. Venerdì 25 dicevamo si è chiusa l'edizione 2022, un'edizione non semplice perché avevate impostato un programma per lo più con incontri in presenza, alcuni sono stati fatti, altri chiaramente per l'emergenza Covid avete dovuto ripiegare sul web. Soddisfatti comunque di questa edizione? No, siamo molto soddisfatti. La rassegna è partita, dicevamo, a ottobre con il programma erano 9 eventi. diciamo che sono andati molto bene, abbiamo avuto circa qualche centinaio per ogni evento di uditori. All'inizio siamo partiti proprio con la modalità mista, sia in presenza sia web. Poi purtroppo i numeri della pandemia non ci hanno permesso di ospitare i nostri, non soltanto i nostri colleghi ingegneri perché è una rassegna aperta alla città, quindi una rassegna aperta anche a chi non ha queste competenze di ingegneri per ampliare un po' quelle che sono le conoscenze su delle tematiche specifiche. Quest'anno appunto la tematica era la sostenibilità. Esatto, ricordiamo proprio il titolo che avete dato a questa edizione e poi l'ultimo evento avete parlato di super bonus, certificazione verdi, insomma temi di estrema attualità. Sì, la sostenibile attività, noi abbiamo dato questo termine un po' la crassi di queste due parole, sostenibilità, perché sostenibilità è un tema, una parola molto usata, quasi inflazionata negli ultimi anni e con attività volevamo appunto dare l'idea dell'azione, del fare, cioè ingegneri che collaborano, fanno, producono. La sostenibilità per noi, l'idea della rassegna è nata ormai più di un anno e mezzo fa, perché la preparazione della rassegna è durata circa sei mesi. Spesso si dimentica questa cosa, perché c'è una preparazione molto lunga. Il pre, e continuavano a venire fuori delle nuove idee, perché la sostenibilità, parliamo di sostenibilità ambientale naturalmente, soprattutto perché siamo dei tecnici, ma c'è anche una sostenibilità e una sostenibilità sociale e anche economica. L'idea è venuta fuori un po' dall'approfondimento che abbiamo voluto fare degli obiettivi dell'Agenda 2030, perché dobbiamo ricordare che comunque non sono gli obiettivi delle diverse nazioni, sono i miei obiettivi, gli obiettivi di chi mi sta vicino. Quindi ognuno di noi può costruire la sostenibilità e in quest'ottica appunto ci siamo proiettati sui dieci eventi. In collaborazione naturalmente con le commissioni e il Consiglio dell'Ordine, ma sempre in contatto con gli enti territoriali. Infatti con il Comune di Verona, piuttosto che la provincia di Verona, la Regione Veneto ha partecipato a diversi eventi, anche l'ARPAV, l'ARPAV Veneto, diciamo che con i sostenitori della rassegna che sono Acqua e Veronesi, AGSM, Federal Manager. Ma tra l'altro uno dei grandi meriti proprio dell'Ordine degli Ingegneri è quello di aver creato attorno a questa manifestazione una rete istituzionale veramente molto allargata. Ci ricordi anche qualche evento che è stato promosso all'interno, qualche tematica che è stata trattata durante questi incontri? Qualche tematica, le tematiche sono state tante, partiamo dall'ultimo, quello degli edifici sostenibili per esempio. Quando si parla di edificio sostenibile a tutte viene in mente naturalmente il super bonus, quindi il bonus per quanto riguarda l'efficientamento energetico. però questo è un inizio. Bisogna comunque pensare che oltre all'efficientamento bisogna utilizzare anche dei materiali che vengono dal riciclo. Quindi non bisogna più pensare a un'economia che è un'economia lineare. Questo su diversi tavoli, anche istituzionali, se ne parla anche a livello politico. Ma deve essere un'economia chiusa, quindi circolare. Quindi anche i materiali che verranno in futuro utilizzati per l'isolamento degli edifici saranno materiali sicuramente di riciclo e questo accorcia notevolmente quello che è anche la filiera di riciclo e a chilometri diciamo zero, cioè del nostro territorio. In un altro interessantissimo evento abbiamo parlato proprio delle realtà locali, no? Perché pensiamo che nella nostra città, nel nostro territorio, anche parliamo territorio, parliamo della Regione Veneto, non ci siano delle realtà virtuose. Invece ci sono. Invece ce ne sono diverse che investono i loro capitali, i loro utili nelle nuove tecnologie, sia per quanto riguarda per esempio l'industria 4.0, piuttosto che anche in campo agricolo, no? La cosiddetta agricoltura di precisione. Quindi sono tanti i campi, li abbiamo affrontati a 360 gradi e speriamo di aver lasciato un contributo alla città e anche ai nostri colleghi ingegneri. Insomma è presto per parlare di un'edizione 2023, tra l'altro sappiamo che ci sarà comunque anche il rinnovo del consiglio, no? Dell'ordine. Sì, a breve. A breve, non si sa ancora la data e quant'altro, però il vostro mandato sta per scadere e quindi forse prematuro per parlare di 2023, ma sicuramente chiunque seguirà dovrà, ormai c'è l'obbligo morale di portare avanti questa rassegna. Sì, la tradizione diciamo della rassegna open, cioè gli ingegneri aperti alla città, questo dialogo con le persone e con le istituzioni, va avanti ormai da diversi anni, con tagli senz'altro differenti, cioè in passato magari un taglio più culturale, più diciamo su alcuni temi più locali. Negli ultimi anni abbiamo cercato di approfondire alcuni temi un po' più generali, no? Che ingrubbassero anche delle problematiche, delle realtà non solo territoriali, ma anche a livello nazionale, però è una tradizione che ormai si tramanda, quindi sicuramente in futuro... E lo abbiamo detto tante volte, non è scontato che un ordine professionale comunque si apra così alla città, di solito gli ordini professionali sono un po' autoreferenziali, rimangono chiusi un po' all'interno delle proprie mura, invece l'ordine degli ingegneri ha avuto proprio questo merito di creare dei collegamenti, un network sul territorio e ci auguriamo ingegneri insomma che possa continuare la manifestazione. Ma quello, quello senz'altro, ce lo auguriamo anche noi, sappiamo che anche i colleghi insomma che delle commissioni sono tanti, sono delle persone molto interessate, spingeranno sicuramente in questo senso. Un evento che le è piaciuto particolarmente, chiuderei su questo, o che l'ha interessata particolarmente tra quelli a cui ha assistito e quelli ovviamente in programma? Ecco no, non vorrei fare un torto ai colleghi, però sicuramente sono due in particolare, quello in cui si è parlato di trasporti, perché diciamo il mio know-how appunto sulla parte trasporti, però anche quello che riguarda le città. Quando si parla di città e dello sviluppo delle città e della modalità in cui vivremo il nostro futuro, penso che quello sia interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il cittadino comune. E anche Verona dovrà porsi questo obiettivo, in primavera ci saranno le elezioni, il nuovo sindaco dovrà, perché no, ereditare anche qualche spunto, qualche idea che è nato da questi tavoli, perché c'è da dire anche questo, gli ingegneri si sono messi a disposizione chiaramente per ragionare su un'eventuale pianificazione, un'eventuale idea di città futura. Quello sicuramente e poi anche in altri due importanti eventi abbiamo parlato della gestione dei rifiuti e penso che quello sia altro tema molto importante, coinvolgendo anche la Regione Veneto. Diciamo che su questo penso che ci sia molto da riflettere, molto da ragionare. Sarà una delle grandi questioni del futuro. Grazie ingegnere, ringraziamo Valeria Reale Ruffino, Vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia per essere stata con noi. Grazie a te per l'invito e per avermi dato questa possibilità di parlare anche della nostra realtà e di quello che facciamo nella nostra realtà. Grazie a te per aver partecipato. Verona Economia questa sera termina qui, noi ci vediamo domani alla solita ora. Grazie per averci seguito.